Vi svolga! Allora, prima di iniziare con la sessione di oggi vi ricordo che sul sito di Pumpling che trovate il linkato in descrizione qui sotto ci sono i costumi da bagno al 40% in meno, quindi se vi interessa potete anche aggiungere al vostro acquisto un paio di calze alla vostra scelta e se usate il codice VILASZLO le calze non le pagate, ma se questo stesso codice lo usate con la promo 4x40 che vi parlate di avere 4 magliette a soli 40€, non solo se aggiungete le calze non le pagate, ma non pagate neanche le spese di spedizione ottimo se acquistate da soli oppure se acquistate con amici per dividervi successivamente il bottino poi vi ricordo che sul canale YouTube di Cultura Pop oggi è uscito il video sulla Collector Edition di Batman Return to Arkham che è qualcosa di spettacolare, vi consiglio di dare un'occhiata se vi interessa sicuramente venerdì è uscito il video sul talisman brandizzato Harry Potter, vi metto i link in descrizione qui sotto e vi metto anche il link al canale così se volete supportare il progetto potete iscrivervi ora però bando alle cianci e iniziamo subito con la recensione di oggi, sigla! allora qualche settimana fa vi avevo detto che avevo in programma per la rubrica sui cult un film di un regista europeo che proviene da un paese che negli ultimi anni non è associato al grande cinema nel senso che da questa nazione non vengono film particolarmente famosi ultimamente che siano effettivamente considerati grandi film però c'è un regista che ne ha partoriti alcuni veramente notevoli quindi è l'unico che al momento stia rappresentando davvero questa nazione europea per quanto riguarda il cinema internazionale e voglio parlare di quello che è uno dei suoi film più controversi non saprei dire se è il migliore che ha diretto ma sicuramente vale la pena parlarne mi riferisco ad un film del 2009 per la regia di Yorgos Lantimos ed è Dogtooth conosciuto anche con il titolo originale greco Kino Dontas che vuol dire canino cioè il dente canino Dogtooth è l'esatta traduzione di Kino Dontas allora è un film che ha vinto Lancer Terregard alla 62esima edizione del Festival di Cannes e nel 2011 è stato candidato agli Oscar come miglior film straniero è un film che da noi non è arrivato in sala prima di un annetto e mezzo fa però bisognava per l'appunto cercarlo in maniera molto attenta e riuscire a capire dove venisse programmato perché effettivamente non era stato distribuito in chissà quante sale io ero riuscito ad andare a vederlo in sala ma al momento lo trovate anche su Now o Sky, se avete Sky lo stanno dando a ripetizione in queste ultime settimane ci tenevo a parlare di Dogtooth perché secondo me è un film veramente clamoroso è un film che ti entra dentro, ti strappa davvero l'anima io la prima volta che lo vidi rimasi assolutamente sconvolto perché io non l'ho visto al cinema in prima visione l'ho visto al cinema dopo averlo recuperato perché c'era stata un'edizione on video che però è anche quella non proprio facilissima da reperire purtroppo il problema è che è un film che da un punto di vista distributivo nel nostro paese è stato abbastanza bistrattato per l'amore del cielo è arrivato in sala perché per essere arrivato in sala è arrivato in sala però dopo dieci anni praticamente dalla sua uscita per cui diciamo che come al solito se un film non è qualcosa che può attirare torne di persone in sala non viene particolarmente considerato questo è un po' il problema dell'Italia secondo me è difficilissimo che film di un certo livello vengano effettivamente considerati per la grande distribuzione se si è sicuri che non verranno calcolati se non da una nicchia di appassionati da una parte è una cosa che capisco dall'altra in molti altri paesi film anche di questo tipo vengono comunque tranquillamente programmati nelle sale noi non abbiamo il concetto dei cinema che proiettano i cult come ce l'hanno in Inghilterra o anche in Germania per dire è un po' un peccato onestamente però è un discorso che sono disposto a comprendere non mi sta molto bene ma lo comprendo ci saranno spoiler naturalmente quindi se non avete ancora visto il film mi raccomando non proseguire la visione di questo video andate a recuperarvelo e poi eventualmente tornate qui perché è qualcosa di veramente interessante avete visto che in questa rubrica ho parlato di film molto datati finora abbiamo parlato di Suspiria abbiamo parlato di quei bravi ragazzi settimana scorsa poi di American Psycho dello squalo ecco Dogtooth se ci pensate è recente perché è un film di 13 anni fa allora perché andrebbe inserito in questa rubrica? perché nel giro di pochi anni è già pienamente considerato un capolavoro Yorgos Lantimos è un regista che adesso lavora a Hollywood abbiamo visto il suola favorita abbiamo visto anche The Lobster il sacrificio del cervo sacro che ha lanciato per davvero la carriera di Barry Keoghan che adesso interpreta il Joker nei Batman di Reeves lo interpreta anche, pare, nella serie spin-off su Arkham Asylum per cui stiamo parlando di un regista che senza ombra di dubbio ha fatto il salto di qualità eppure la cattiveria che troviamo in Dogtooth è qualcosa di quasi irripetibile perché in realtà ci sono delle forti corrispondenze tra questo film e l'appena citato il sacrificio del cervo sacro soprattutto nelle scene di approccio sessuale in cui la donna solitamente si offre all'uomo come se si stesse sacrificando sdraiata sul letto immobile con la testa il più indietro possibile a fissare un punto imprecisato in alto c'è proprio uno studio dell'inquadratura sulle scene sessuali nei film di Lantimos che per quanto mi riguarda è pazzesco perché lui tratta il sesso in una maniera molto particolare dipende ovviamente dal film nella favorita ad esempio il sesso è qualcosa di liberatorio ma anche proibito qualcosa che deve essere nascosto nel sacrificio del cervo sacro è un qualcosa di assolutamente consenziente ma allo stesso tempo qualcosa come se fosse dovuto stessa cosa in Dogtooth in Dogtooth il sesso è una necessità Lantimos si è ispirato a vari fatti di cronaca per questo film perché sostanzialmente si parla di un abuso terrificante che però viene messo in scena con un piglio quasi cronanchistico quasi come se fosse un documentario è un film che ha una trama sì e no nel senso che è anche questo una sorta di slice of life cioè ti mostrano la vita di queste persone che però non è assolutamente una vita ordinaria è una vita vissuta nella menzogna una vita vissuta nell'abuso non però pervenuto nel senso che le persone che vivono questo abuso non si rendono conto di stare vivendo un vero e proprio abuso per loro quella vita normale ora abbiamo quest'uomo questo padre padre padrone oserei dire che è un dirigente d'azienda benestante sicuramente lui e la famiglia hanno questa casa molto molto grande con la piscina il giardino completamente isolata tant'è vero che noi vediamo solo degli stralci nel mondo esterno vediamo giusto l'azienda dove lui lavora vediamo ogni tanto la strada che percorre per andare a lavorare ma non tanto più di quello e all'interno di questo microcosmo che si è creato nella famiglia ci sono pochissime persone che possono entrare in realtà noi vediamo una sola che è questa detta alla sicurezza dell'azienda dove lavora il padre che è questa Cristina che viene assunta esclusivamente per soddisfare i bisogni sessuali del figlio più grande l'unico maschio della famiglia oltre al padre perché è composta da madre, padre, figlio e due figlie l'unico altro luogo che vediamo al di fuori dell'azienda parlo del mondo esterno è la casa di Cristina che si vede in una scena in cui il padre la punisce per quello che ha fatto ora andando con ordine sostanzialmente quest'uomo e la moglie hanno deciso di proteggere preservare i figli dalle brutture del mondo esterno confinandoli in casa e crescendoli con l'idea che al di fuori ci sia un mondo completamente ostile violento che li divorerebbe non appena mettessero piede fuori casa li crescono senza neanche dargli le nozioni di base di quella che è la vita il figlio ad esempio viene praticamente costretto a fare sesso con Cristina ma per il semplice fatto che sanno che un ragazzo della sua età ha sicuramente delle pulsioni sessuali ma lui stesso non è che capisca bene cosa sia il sesso sa che quando arriva a Cristina lui deve fare sesso anche quando non è a voglia Cristina non gli spiega effettivamente cosa sia il sesso si limita ad andar lì e a concedersi a lui e a fare quello di cui lui ha voglia di fare ma ovviamente anche lui non è che si rende perfettamente conto di quello che sta facendo e le due figlie invece sono assolutamente tenute all'oscuro di che cosa sia il sesso fino ad un certo momento che poi a cui poi arriverò e la moglie anche lei ha vissuto nel mondo esterno ma ha deciso di confinarsi in casa per crescere i figli quindi è perfettamente d'accordo con il marito e i due hanno un rapporto che comunque è di subordinazione perché il padre il marito della donna la tiene sicuramente in una situazione di clausura che però lei è convinta di voler accettare ovviamente è una donna che ha subito un lavaggio del cervello estremo non ci è dato sapere se questa cosa sia stata presa di comune accordo se sia qualcosa che loro hanno sempre voluto fare se sia il marito peraltro ad aver insistito peraltro il marito è l'unico che esce di casa però lo vediamo come un uomo rigido un uomo che non dà molta confidenza alle altre persone quando gli chiedono informazioni sulla sua famiglia e colleghi lui non è molto propenso a darne sappiamo solo che la moglie era un ex atleta a quanto dice lui ma bisogna vedere se questo sia vero ma in realtà non è neanche importante quindi noi vediamo lo scorrere sempre uguale della vita di questi ragazzi che vengono messi continuamente alla prova dei genitori che organizzano delle vere e proprie competizioni in base a quanti problemi di matematica risolvono ricevono dei premi ma dei premi insulsi e tra l'altro non dicono loro alcune cose fondamentali ad esempio a un certo punto la figlia una delle figlie quella più piccola a casa chiede alla madre di passarle il telefono e la madre le passa il sale e tu dici ma come il sale ma perché perché gli hanno negato la conoscenza di alcuni termini fondamentali non devono sapere che c'è la possibilità di comunicare all'esterno c'è una scena che mi piace tantissimo in cui i figli sono preoccupati per la madre perché pensano che sia impazzita perché ogni tanto lei si chiude in camera a parlare da sola ma noi spettatori sappiamo che in realtà sta parlando al telefono col padre ma loro non hanno idea di cosa sia il telefono addirittura ad un certo punto una delle figlie trova il telefono perché ha capito cosa succede all'esterno e vuole andarsene perché l'elemento di disturbo vero è proprio Cristina Cristina è il rischio che si assume il padre il padre non è un uomo malvagio nella propria concezione lui è convinto di sta facendo il bene dei figli è un essere abietto aberrante che però crede sinceramente gli sta facendo il bene della sua famiglia quindi lui si assume un concreto rischio portando Cristina in casa ma cosa rappresenta Cristina rappresenta quel mondo esterno che lui e la moglie stanno cercando di allontanare dai figli addirittura parlano di questo figlio che si sarebbe allontanato da casa e sarebbe uscito nel mondo esterno infatti vediamo che molto spesso i figli comunicano con lui al di là della siepe come se lui fosse appena al di là della casa e a un certo punto trovano la scusa per dire che quel ragazzo sia morto ora noi non sappiamo se esiste effettivamente un figlio che se n'è andato di casa e che loro non sanno più dove sia se se lo siano inventati solo per raccontare di qualcuno che è uscito che sta vivendo una vita terribile non si capisce effettivamente se questo non si capisce effettivamente come come sia andata veramente sta di fatto che da quello che dicono i genitori noi sappiamo che i figli non sono effettivamente del tutto bloccati in casa è questa la cosa strana perché il film si chiama dog tooth o kinodonta se preferite perché l'ha chiamato canino perché quando a tavola ogni tanto ripassano le regole su come vivere in quel luogo viene detto che loro andranno in casa solo con l'auto andranno via di casa solo attraverso l'auto del padre e solo quando cadrà uno dei loro canini quando uno dei loro canini sarà caduto loro se ne potranno andare benissimo il punto è i canini ovviamente a dei ragazzi così grandi non cadono a meno che non abbiano una malattia alle gengive o abbiano problemi ai denti quindi un'altra cosa che non è mai stata ben chiara ed è questo cadono di dog tooth cioè il fatto che sia un film che si presta molto interpretazioni può essere che i genitori abbiano detto la cosa del canino per evitare che i figli se ne andassero in modo che gli hanno detto una cosa impossibile che non può accadere oppure per testare la loro forza d'animo al punto che uno di questi a un certo punto rendendosi conto di voler se ne andare si spaccasse un canino volontariamente per poter andare via perché alla fine quando poi ovviamente i figli non hanno nome cioè noi non abbiamo i nomi di nessun personaggio anche i genitori chiamano i figli come il maschio la più grande e la più piccola non hanno dei veri e propri nomi quando la più grande che è quella più caparbia se ne vuole andare di casa c'è questa scena potentissima di lei davanti allo specchio con questa inquadratura che ha il focus non tanto sulla lei reale ma su quella riflessa su lei riflessa nello specchio che all'improvviso senza un reale improvviso si spacca il dente lo lascia nel lavandino e si mette nel baule dell'automobile ora i genitori la cercano per poco poi sembra che non si preoccupino non si preoccupino più di tanto tanto è vero che è in quel momento che io mi sono detto allora forse il figlio di cui tanto parlavano esiste realmente e l'ho pensato perché la loro reazione è sistematica come se quella cosa fosse già successa quindi può essere che veramente ci fosse un altro figlio che se n'era andato ma ad un certo punto loro potrebbero tranquillamente cercarla nell'auto siccome gli hanno detto le hanno detto e hanno detto a tutti che se ne possono andare solo con l'auto del padre sarebbe il primo posto dove cercava non la cercano e sembra che la loro vita riprenda tranquillamente con il fratello che è abbracciato alla sorella più piccola la quale sembra sempre aver avuto una fascinazione per lui perché se vi rendete conto se vi accorgete della cosa potrete notare riguardando il film che la sorella più piccola guarda sempre il fratello in maniera sognante è palesemente innamorata di lui il fratello ha rapporti sessuali frequenti con Cristina la quale però lo fa solo per denaro e lei rappresenta però appunto il mondo esterno finché un giorno la più grande non nota questo cerchietto fosforescente con le pietre fosforescenti che lei ha in testa e dice ma come l'hai avuto me l'hanno regalato e a un certo punto quando lei Cristina chiede al fratello grande di praticare un cunnilingus lui si rifiuta lei ha ancora voglia e lei è evidentemente bisessuale o addirittura lesbica perché si vede che continua a guardare la sorella più grande della famiglia finché un giorno non vada lei e dice senti se me la lecchi io ti do questo cerchietto e ovviamente la più grande non ha idea di che cosa sia un cunnilingus non ha la minima idea di cosa di cosa sia il sesso perché il padre essendo un uomo che ha messo in piedi una società chiaramente patriarcale è convinto che le pulsioni delle due ragazze non siano importanti quanto le pulsioni del maschio evidentemente perché ha paura che il maschio abbia un comportamento violento se non ha un rapporto sessuale ogni tot lui stesso fa frequentemente sesso con la moglie e la moglie si concede a lui sempre in quel modo di cui parlavo prima lei che si mette così sdraiata e lascia fare al marito quello che vuole fare quindi il discorso è che fondamentalmente loro hanno introdotto un'estranea che sta scombinando senza che loro se ne accorgano il fragile equilibrio che hanno creato perché lei inizia a parlare di cose riguardanti il mondo esterno ad esempio a un certo punto dice al più grande che sembrano zombie e il più grande a un certo punto il più grande il maschio il maschio va dalla madre e dice mamma che cos'è uno zombie e lei dice un fiorellino giallo che cresce nei prati tant'è vero che quando lui a un certo punto trova un fiorellino giallo nel cortile dice mamma ho trovato uno zombie oppure i figli sono spaventatissimi quando trovano un gatto tant'è vero che il maschio lo ammazza perché sono convinti che tutto quello che arriva dall'esterno compreso gli animali sono dei mostri fondamentalmente quindi anche questo è allucinante o come è allucinante il fatto che il padre faccia la spesa e tolga con il coltello tutte le etichette in modo da non far avere nessun tipo di informazione ai figli e Cristina non si rende conto di quanto la situazione sia grave Cristina peraltro è un personaggio anche lei abbastanza riprovevole diciamo che in questo film non esiste bene e male anzi è forse la cosa più importante del film il fatto che ti spieghi come noi esseri umani in fondo siamo animali e ciò che ci rende umani ciò che ci rende quello che siamo è la cultura la nostra capacità di raziocinio ma se tu prendi degli umani appena nati e li metti in una condizione sociale particolare selezionata cresceranno in un modo completamente diverso rispetto a quello che noi conosciamo nella nostra società noi siamo come delle spugne che assolvono tutto il problema è che siamo anche affamati di conoscenza e quindi voi direte il padre e la madre sono dei pezzi di merda cattivi sì lo sono per la nostra società ma se consideriamo quello che pensa il padre lui non si reputa cattivo lui si reputa una persona che ha creato una micro società nella società una società avulsa dalla società in un certo senso non è troppo diverso da quello che vediamo in Captain Fantastic quello con Vigo Mortensen la differenza è che Captain Fantastic era un film più fiabesco e sognante dove non c'era non emergeva l'elemento coercitivo ma c'era infatti quel film è molto bello però io ho sempre pensato però cavolo quello che fanno è terribile se ci pensate isolavano questi ragazzi della società per creare degli esseri quasi perfetti fisicamente a livello intellettivo qui è una cosa abbastanza simile ma più violenta psicologicamente parlando perché questi ragazzi crescono con delle turbe mentali incredibili addirittura per giustificare la questione degli aeroplani perché abitano chiaramente vicino all'aeroporto passano tanti aeroplani vediamo che a un certo punto dicono spero che cada così me lo metto in camera io ero lì che pensavo la prima volta in che senso spero che cada e vediamo che a un certo punto quando passano aereo ed esce fuori dal campo visivo la madre ha questi modellini di aeroplano che lancia subito dopo nel cortile e dice guardate che è caduto e quindi loro sono convinti che gli aeroplani siano realmente grandi così per farvi capire il livello di alienazione a cui sono sottoposti questi ragazzi ma l'elemento esterno un elemento esterno anche qui che per me è considerabile come negativo ma in realtà l'antimos ti vuole solo far capire che è un elemento estraneo punto se vogliamo perché noi giudichiamo quello che accade con i parametri della nostra società lì lei è un elemento di disturbo perché innanzitutto lei Cristina sa cosa accade in quella casa e non denuncia in nessun modo forse perché ha paura forse perché è una persona a cui non gliene frega niente vuole solo i soldi sta rifatto che a un certo punto lei si mette ad abusare le altre l'altra ragazza solo perché può perché è in una posizione di potere quindi sì Cristina è cattiva a un certo punto diventa cattiva anche nella micro società di cui di cui abbiamo testimonianza perché per il padre lei è una è un mostro che ha cercato di circuire le sue figlie lei no cioè non lui lei e va a casa sua e le spacca il videoregistratore in testa quasi ammazzandola perché perché a un certo punto la più grande dice io non te la recco più se tu non mi dai quello che voglio io voglio qualcosa di specifico e vuole le videocassette che lei aveva in borsa e e allora Cristina dice ma io non te le posso dare e invece me le dai e se non me le dai io vado a dire a mio padre che cosa stai facendo perché la più grande è molto intelligente e inizia a comprendere che Cristina è ricaptabile anche se non sa cosa sia un ricatto la più grande è quella che dà maggiore segno di squilibrio tra l'altro perché è quella che quando il fratello prende l'aeroplano lo taglia con un coltello lo picchia è quella più violenta perché perché è quella a cui la situazione in cui sta è più stretta è la prima che capisce cosa accade nel mondo esterno perché quando chiede le videocassette le videocassette dello squalo di Rocky di un film di Bruce Lee a un certo punto vuole essere chiamata Bruce lei è l'unica notate è l'unica che ad un certo punto avrà un nome è l'unica che si darà un nome è la più indipendente è quella che se ne vuole andare assolutamente è l'essere umano impazzito che sfugge al controllo è la rappresentazione di cosa sono veramente le persone le persone possono essere controllate ma a un certo punto sopraggiunge un istinto una sete di conoscenza una voglia di indipendenza che è ciò che ci distingue dagli animali quindi in un certo senso tra i fratelli e le sorelle tra i fratelli e le sorelle Bruce è l'unica che possiamo chiamare per nome ripeto è quella che diventa umana per davvero è quella che a un certo punto nasce nella società e se ne va e l'inquadratura finale sul bagagliaio dell'auto che non sappiamo se si aprirà con lei che uscirà è qualcosa di spettacolare inquadratura sul bagagliaio fine inutile dire che la regia di questo film è incredibile perché è una regia asettica una regia che ti impedisce quasi di empatizzare con i personaggi ti mostra questa tragedia in maniera imparziale non dà giudizi una regia con questa fotografia algidissima una fotografia asciutta che sembra quasi appiccicata come un trasferello alle inquadrature con questa luce pallida questi colori spenti è qualcosa di incredibile veramente e questa regia spesso a macchina da presa fissa con movimenti di macchina lentissimi con queste carrellate quasi impercettibili quasi neanche ti accorgi che sta zoomando tanto è lento questo è un film secondo me ancora relativamente acerbo nella filmografia di Lantimos ma è ciò che avrà che influenzerà poi tutta la sua produzione successiva in ogni suo film troviamo dei momenti alla Dogtooth perché Dogtooth non è il suo primo film il suo primo film è Chinetta che però è difficilmente reperibile in pochi hanno visto ma il discorso è che è spettacolare il modo in cui Lantimos ti mostra qualcosa di talmente feroce eppure in una maniera così apatica come se lui dicesse te lo mostro ma poi fatti tu la tua idea colonna sonora quasi del tutto assente con pochissimi momenti in cui sentiamo musica tranne alcuni momenti in cui la musica è diegetica c'è un momento spettacolare in cui il padre dice volete sentire il nonno cantare e mette su un disco mi pare fosse non mi ricordo se Frank Sinatra o Dean Martin mi pare fosse Frank Sinatra che canta in inglese e quando il padre traduce le parole dall'inglese ovviamente sono parole che non corrispondono alla canzone ed è una sorta di testo propagandistico in cui dicono vogliamo bene i nostri genitori i nostri genitori vogliono bene a noi noi non ce ne andremo mai insomma è un discorso che è sempre puntato al tenerli inchiodati lì dove sono e il padre va a lavoro ma pensa sempre a questo esperimento che sta facendo a questa volontà di segregare tutta la famiglia per il suo bene tra l'altro c'è una scena raccapricciante perché a un certo punto la sorella grande chiede alla sorella più piccola di leccarla ma non di farlo un conilingus le chiede di leccare l'ombelico quindi in realtà non si vedono loro che hanno che hanno rapporti orali però a un certo punto si vede la più piccola che si mette a cavalcioni del padre sdraiato e inizia a leccarlo a leccargli la faccia poco dopo il padre entra in bagno tirandosi sulla zip il film te lo suggerisce sembra che il padre abbia avuto rapporti sessuali con la figlia quindi a un certo punto la situazione genera veramente lì sì che il padre si mostra per quello che è ovvero per una bestia mostruosa si mostra fin dall'inizio per una bestia mostruosa ma la cosa che mi raggela è che il film non te lo presenta come cattivo te lo presenta come un uomo che ha trovato una soluzione estrema per proteggere la sua famiglia dal mondo esterno ovvio che poi noi che siamo esseri umani senzienti lo vediamo come un pazzo criminale però il film non te lo vuole presentare come un pazzo criminale c'è il film vuole presentarti a una situazione come qualcosa di asettico come qualcosa che può succedere scevro dell'interpretazione di bene e male quella la dà lo spettatore ma la regia non ti pone mai qualcosa come buono o cattivo tutto quello che accade dalle cose più carine che ci sono dei momenti di svago che sono anche strani da vedere ma che ti affascinano quasi altri che sono veramente terribili ma la regia commenta ogni scena nello stesso identico modo è questa è questa la forza di dog tooth e una cosa che mi piace che mi piace moltissimo del film è il momento in cui la figlia inizia per l'appunto a ripetere a pappagallo le battute le finca guardato capiamo che per settimane lei guarda film su film e si capisce a un certo punto che gliene dà ancora Cristina prima di essere cacciata dal padre e quella cosa è fantastica perché lei inizia a capire cosa ci sia al mondo esterno inizia a capire che il mondo esterno non è brutto come si pensa e inizia a diventare nel frattempo sempre più violente a parlare sempre di più per citazioni di film quindi a un certo punto inizia a citare lo squalo mentre in piscina inizia a picchiare il fratello nella foga delle citazioni poi a un certo punto il padre scopre le cassette ne prende una se la scoccia con il nastro adesivo alla mano e inizia a spaccarla in testa tirando schiaffi alla figlia la quale sta iniziando a diventare saturata di questa situazione senza contare che a un certo punto quando Cristina viene cacciata il padre dice ora dobbiamo trovare qualcuno che soddisfi le voglie del maschio ma non voglio trovare qualcuno all'esterno e dice alla moglie secondo me dobbiamo fargli scegliere una tra le due sorelle ora questa scena è molto simile nella regia nell'impostazione nei dialoghi a quella del sacrificio del certo vo sacro in cui Nicole Kidman e Colin Farrell devono decidere chi della famiglia si sacrificherà per la vendetta del ragazzo interpretato da Barry Kjogan e a un certo punto Nicole Kidman dice secondo me dovremmo sacrificare uno dei figli tanto ne possiamo fare un altro allo stesso modo la scena è molto simile il padre dice secondo me solo che gli è il padre a parlare l'uomo e non la donna secondo me dovremmo far scegliere al maschio una delle due sorelle il maschio sceglierà più grande forse perché è quella che lo domina di più è quella con il carattere più ribelle e quindi forse la rispetta in un certo senso per questo e lui non riesce a capire bene ancora cosa sia il sesso se non uno sfogo quindi pensa che lei sia degna di questo sfogo ma quando hanno il rapporto sessuale ovviamente non viene mostrato viene mostrato solo il dopo la sorella lo minaccia citando un film citando proprio lo squalo se non erro quindi lì vedi proprio che c'è la saturazione infatti la sorella a un certo punto a cena devono ballare perché c'è il momento del ballo lei inizia a ballare una scena da flash dance proprio inizi a fare quel balletto e il padre si arrabbia e dice smettila basta a quel punto la sorella capisce che lei è diventata grande che non ha più niente che spartire con il fratello e la sorella e con i genitori si spacca il canino si mette nel bagagliaio e alla fine se ne andrà ma non si sa se morirà in quel bagagliaio o se riuscirà a uscire questa è una cosa allucinante per quanto mi riguarda e vediamo però appunto alla fine il fratello e la sorella che si abbracciano e probabilmente loro rimarranno seppelliti in quella realtà terrificante creata da questo mostro di padre con una donna succube che avalla ogni sua decisione tra l'altro c'è questa scena in cui per metterli in riga la madre dice io potrei partorire due figli e un cane se partorirò due figli dovrete dividervi le stanze i figli dico no non vogliamo non è detto che io partorirò due figli se farete i bravi e seguirete le regole non ce ne sarà bisogno ma il cane lo partorirò più presto e su questo non voglio sentire la mentele perché perché dovevano giustificare il fatto che stanno portando a casa un cane che avevano lasciato in canile quindi anche la parte del canile ecco è vero quello è un altro dei pochissimi luoghi è vero che vediamo dell'esterno vero mi ero dimenticato del canile il canile è importante perché quest'uomo il padre tiene molto a questo cane che non ubbidisce e in un certo senso il cane che non ubbidisce per lui è qualcosa di inconcepibile perché i figli ubbidiscono più del cane quindi il fatto che il film si chiami dog tooth il fatto che la la maturazione secondo queste assurde regole avvenga attraverso la perdita del canino e il fatto che il cane sia l'essere più problematico del film quello che è stato messo addirittura in gabbia perché non ubbidiva perché bisognava riprogrammarlo è la cosa più importante è il simbolo del fatto che quest'uomo vuole il controllo totale e che riesca davvero di più su un essere umano piuttosto che su un cane questo fa capire quanto l'essere umano abbia un apprendimento estremamente programmabile ma a un certo punto la figlia diventerà esattamente come quel cane esattamente come solo che la figlia era già in gabbia e la figlia a un certo punto scappa e lui non si preoccupa neanche troppo di recuperarla perché una volta che lei è scappata per lui è come se lei avesse scelto di abbandonare quell'utopia perfetta che lui ha creato un'utopia peraltro in cui può scatenare anche la sua fantasia ad esempio un giorno torna a casa con dei pesci li butta nella piscina e quando i figli li trovano vogliono andare appunto a pescare questi pesci peraltro questi pesci c'è anche una simbologia particolare sulla questione dei pesci perché a un certo punto viene detto il numero sbagliato di quei pesci come se fosse cioè dice sono due in realtà sono tre e in sostanza è come se anche quella semplice cosa inizia a sfuggire al controllo lui ha preventivato un numero di pesci e se ne ritrova di più non si era accorto è un po' capito il simbolo della situazione che sta lentamente sfuggendo dal controllo per cui è un film secondo me di una potenza visiva ma anche di una potenza narrativa incredibile un'ora e venti che sembrano durare dieci minuti veramente anche abbastanza breve come film e io ho trovato incredibile ogni cosa allora magari non sarà il film migliore mai creato per amore di Dio però secondo me è un cazzo di capolavoro è un capolavoro della ma anche a livello psicologico è di una violenza incredibile ci sono pochi film che mi hanno lasciato un senso di amarezza e di disgusto come Dogtooth per me un film che tutti dovrebbero recuperare dovrebbero recuperare tutti è una pellicola eccezionale sotto ogni punto di vista è registicamente ripeto è qualcosa di impressionante ad esempio la scena del canino quando la più grande si spacca il dente per me è fenomenale e poi la cosa che adoro è il fatto che narrativamente tu arrivi a capire le cose solo pian piano perché è tutto un media stress noi non vediamo il padre che decide di fare questa cosa no no noi vediamo tutto il media stress inizia la giornata come se fosse qualcosa di normale poi vediamo la tizia che va lì e fa sesso con il ragazzo le altre due che parlano alienatissime una che non sa cos'è il cerchietto fosforescente quell'altra che non sa cos'è il come si chiama il sale è qualcosa di incredibile proprio il fatto che l'antimos ti racconti poco a poco senza alcun tipo di spiegone una storia una tragedia che si consuma ogni giorno in quella casa sotto gli occhi di una società assolutamente indifferente Cristina potrebbe fare qualcosa ma non lo fa perché è avida perché ha paura forse perché forse non gliene frega un cazzo e non ha la minima empatia il padre picchia i figli abusa di loro e nessuno dice niente la madre è totalmente d'accordo e anzi partecipa a questo gioco al massacro insomma è un film disperato l'unica speranza rappresentata da Bruce che però non sappiamo se alla fine se ne andrà oppure no tra l'altro noi verso la fine capiamo che potrebbe esserci stato davvero un fratello che è scappato che hanno finto poi che fosse stato ucciso da delle creature all'esterno quel fratello se è esistito perché non ha denunciato quello che accade lì credo per lo stesso motivo se esiste per cui non credo che lo farebbe Bruce perché perché per loro quello non è qualcosa di sbagliato loro sono diventati adulti perdendo il canino se ne sono andati e per loro la situazione che avviene lì non è qualcosa che affare della società esterna è qualcosa che affare solo degli abitanti della casa quindi la cosa non finirebbe se anche Bruce si fosse salvata io non credo che Bruce sarebbe andata alla polizia o sarebbe andata magari l'avrebbero beccata perché essendo totalmente alienata alla fine avrebbe fatto qualcosa per cui l'avrebbero presa i poliziotti e attraverso un interrogatorio sarebbero andati magari a verificare però il punto è che lei comunque anche volendo non saprebbe come tornare alla casa perché si è fatta tutto il viaggio nel bagagliaio e la casa è completamente al di fuori della grande città quindi è una situazione che probabilmente nessuno avrà mai scoprire nemmeno Cristina nemmeno dopo essere stata brutalmente picchiata dal padre è andata a denunciare la questione quindi la disperazione sta nel fatto che chi rimane in quella casa probabilmente rimarrà lì finché non succederà qualcosa per cui potrà scappare o cose del genere quindi è un po' questo il discorso di Dogtooth è un film che non giudica è un film che si limita a mostrarti sarai tu spettatore a capire quale sarà il giudizio da dare se c'è un giudizio da dare per me c'è come però è interessante proprio il modo in cui l'antimos vuole raccontarti questa storia facendoti capire che alla fine le persone si fanno cose brutte ma le persone sono fondamentalmente malleabili ma alla fine ciò che ci rende una specie superiore uscirà sempre fuori l'essere umano può liberarsi da una situazione come quella usando semplicemente l'intelletto ma l'essere umano può anche creare una situazione come quella è proprio una sorta di visamina di che cos'è l'uomo di che razza di creatura straordinaria sia l'uomo straordinariamente geniale nel bene straordinariamente geniale nel male la figlia più piccola ad esempio ha la competenza di un medico perché non ha fatto altro da quando ha imparato a leggere che leggere i manuali di medicina sono indicazioni del padre per essere colei che avrebbe pensato alle malattie di loro non ha una laurea ma è più preparata di uno studente di medicina e lei a un certo punto si rende conto di questa cosa quando poi picchia il fratello con un martello e gli spacca il ginocchio dice no è stato un gatto ho visto il gatto che usciva col martello ovviamente i genitori sanno che questo non è possibile lei no lei è convinta che un gatto possa fare questa cosa e dice ma lo sistemo io perché aveva bisogno in quel momento di scoprire come funzionava un ginocchio rotto e poi lei era gelosa in realtà del fatto che lui avesse fatto sesso con la più grande e non l'avesse scelto lei è anche questo il fatto quindi sono completamente fuori controllo forse quello più disciplinato è proprio il maschio e il padre è chiaramente convinto che il più disciplinato sia lui perché fa sesso regolarmente quindi si può sfogare è anche un discorso abbastanza particolare se vogliamo per cui questo è quello che pensavo circa Dogtooth un film particolarissimo geniale che io consiglio a chiunque di recuperare quindi noi io vi abbraccio vi ringrazio infinitamente se volete tanto tanto bene e noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti grazie